che vadano tutti al diavolo pensano che solo per il fatto che sono medico io sei in grado di guarire qualsiasi malattia il fatto che non so più niente ho dimenticato tutto quello che sapevo non ricordo più niente e allora? qualcuno ha qualcosa in contrario al diavolo mercoledì scorso a Mosca ho curato una donna e poi è morta e la colpa è tutta mia sì signor 25 anni fa sapevo qualcosa ma adesso non ricordo proprio niente zero assoluto forse non sono neppure un essere umano mi pare soltanto di avere testa gambe e braccia e invece non le ho forse non esista credo di camminare e sognare e invece non è vero magari non esistesse magari il diavolo e l'altro ieri al circolo grandi discussioni Shakespeare Voltaire e chi lo sa chi lo sa chi diavolo sono io non li ho letti di sicuro eppure con gli altri fingevo di saperli a memoria che che bassezza che falsità che falsità poi ho ripensato alla donna che è morta mercoledì ed anche tutto il resto io ho sentito la mia anima affogare nel fango e lo vergogno e lo schifo sono subito scappato per i carni e lo schifo